A cura dell'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea e dell'Associazione Il Sentiero della Libertà Freedom Trail è stato presentato il convegno sulla resistenza umanitaria e consegna a borse di studio Roberto Cicerone, edizione 2018 della Marcia Internazionale Il Sentiero della Libertà. Alla presenza del Presidente Jasrik Carlo Fons, della Presidente dell'Associazione Il Sentiero della Libertà Maria Rosaria Lamorgia, giornalista Rai e i soci Mario Sette e delle Distrizi. La diciottesima marcia internazionale ci sarà il 27, 28 e 29 aprile e toccherà Sulmona, Campo di Giove, Taranta Peligna e Casoli. Un percorso reale nel quale si camminerà piedi sui monti abruzzesi nel parco della Maiella, ma anche un esercizio mentale sui temi della libertà, della solidarietà e della pace. Il Sentiero della Libertà vedrà diversi appuntamenti nella tre giorni. Quest'anno il Freedom Trail, ha detto la Presidente Maria Rosaria Lamorgia, compie 18 anni e entra nella maggiorità, consapevole di quanto sia faticosa la conquista della libertà. Una libertà che si coniuga con democrazia, rispetto, dialogo e dignità. Ognuno di noi potrà aggiungere qualcosa durante il cammino che faremo insieme. La meta è tessere relazioni per il bene comune, come hanno fatto quelli che ci hanno preceduto lungo questa strada.